Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote Bene ragazzi quest'oggi partiamo subito, quindi diamo la linea direttamente ad Anita che è a Costa Teghise più precisamente in Playa de los Charcos per vedere se ci sono delle novità sugli hotel in quella zona però mi raccomando rimanete lì perché abbiamo un'importante notizia per tutte le persone che hanno prenotato le loro vacanze con Jet2Holiday quindi rimanete lì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti